Il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi e l'assessore ai trasporti Gian Donato Morra hanno tenuto ieri pomeriggio a Pescara, nella sede di Viale Bovio, un vertice con l'intero mondo dei trasporti abruzzesi per fare il punto della situazione sulla viabilità ai trasporti, anche alla luce dell'alerta meteo riguardante la regione per le giornate di domani e sabato. L'obiettivo è stato quello di mettere a punto la macchina organizzativa dei trasporti ed individuare eventuali criticità, il tutto per concertare e mettere a punto strategie efficaci per prevenire i disagi dei cittadini e garantire al tempo stesso collegamenti regolari anche nel prossimo fine settimana, quando è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con probabili nuovi e abbondanti precipitazioni nevose. Si tratta, ha detto il presidente Chiodi, di far fronte ad una situazione che si prevede eccezionale, con l'obiettivo di riuscire a garantire, nell'emergenza, la regolarità nei trasporti su gomma, su ferro e anche all'aeroporto d'Abruzzo. Sono state inoltre fissate le linee guida soprattutto riguardo il transito delle autostrade A24 e A25. Nelle prossime ore, ha detto ancora il presidente della regione, sarà già attiva una unità di crisi coordinata dall'assessorato ai trasporti della regione Abruzzo, che si interfaccerà con il COA e la strada dei parchi e che sarà operativa 24 ore su 24, con l'obiettivo di gestire le operazioni di coordinamento del traffico veicolare sulle autostrade, con particolare riferimento al traffico pesante e dei mezzi di linea che collegano Roma con l'Abruzzo. In questo caso, ARPA ha chiesto per garantire, in caso di forte maltempo, la sicurezza degli utenti in viaggio sui pullman da e per Roma, anche un trasporto a convogli, con i pullman preceduti da mezzi spazzaneve e spargisale, con l'obiettivo di garantirne la partenza del mezzo di linea e il viaggio regolare fino alla destinazione finale. L'assessore Giandonato Morra ha sottolineato che l'emergenza ha messo in rilievo l'importanza dell'intero sistema trasporti regionale e per questo che abbiamo ritenuto opportuno creare questa unità di crisi, per coordinare al meglio l'emergenza e garantire un servizio di qualità al cittadino utente.